Ragazzi e ragazze vi diamo il benvenuto su Gatsub Drums, oggi non sono da solo è tornato in studio Stefano Testa, ciao Stefano, eccoci qua, ciao Luca, grazie ancora dell'ospitalità, grazie mille a te, dato che nel video, io mi tolgo un attimo le cuffie, così almeno, dato che nello scorso video in cui avevamo provato la Geva G5 e vi ho chiesto di dirmi se volevate che provassimo anche la 3, mi avete risposto dicendomi assolutamente sì, vogliamo provare la 3, vogliamo sentire la 3, quindi eccoci qua con la G3, G3 Club, ok, Club, ricordiamo prima di mandare la sigla che significa con i fusti medi, esatto, di profondità ridotta, perché c'è la G3 Studio, sì, con i pad, perfetto, la G3 Club e la G3 Pro, che è quella con i fusti profondi, power, no, beh, profondi normali, come una batteria acustica normale, questo dà il nome Club, questo, il modulo, dà il nome, dal numero, in pratica, esatto, hai studiato, vero, ok, mi ricordo qualcosa l'altra volta, e quindi più piccolino, ma comunque ne parliamo bene in questo video, in questo video non ci sarà Stefano la batteria, ma gli ho detto voglio provarla io, questa è la più, sarà mio allievo, esatto, oggi io sono allievo, lui è maestro, io sono appunto su questa qua che è all'interno della fascia più economica, esatto, è la seconda fascia di prezzo, ma come potete vedere ha un look elegante, accattivante, presentabilissimo su un qualsiasi palco, che è uno dei nodi cruciali di un'elettronica oggigiorno, assolutamente sì, e come tutta il catalogo Gheva è completamente made in Germany, quindi qualità a livelli top, sì anche per i tedeschi quindi super precisi eccetera, non posso eccepire, e in più come tutte le altre batterie viene costantemente aggiornata tramite gli aggiornamenti software gratuiti, perfetto, quindi abbiamo già parlato troppo in questo intro ma non fa niente, mandiamo la sigla e poi la provo e vedo un po' le sensazioni e tutto quanto, sigla! Allora mi metto le cuffie, una, due, allora io quasi quasi suonerei sul primo kit che abbiamo, che abbiamo già usato l'altra volta, tra l'altro comunque tutti i video sulla G5, quello l'altra volta e quello dell'altra l'altra volta, quello sulla G9, li trovate qui sotto in descrizione, American Vintage, troviamo, tanto i suoni da quello che abbiamo parlato del video vecchio, sono gli stessi, identici della G5 e del video precedente, perfetto! SIGLA Vabbè, allora, suoni e sensibilità soprattutto impressionanti, devo dire, impressionanti. Avevo provato quelli della G9, appunto, erano già impressionanti, questi sono uguali. Perché, appunto, è fighissimo il fatto di avere una batteria che comunque costa molto meno, ma la qualità è identica, quindi bellissimo. Anche questo è un charleston, che è un po' sempre la croce delle batterie elettroniche. Prima di cominciare il video ho fatto la prova con la centralina, magari gliela facciamo vedere come si fa, giusto per? Quindi, allora, trigger. Ok, quindi qui mi sta chiedendo di tenere il charleston premuto, senza premerlo troppo, ma come lo premo io normalmente. È personale. Sicuramente vado avanti quando l'ho premuto, lui mi dice, apertura massima del charleston, io alzo il piede, vado avanti, mi dice, fai una prova per vedere se il charleston funziona bene, come potete vedere io adesso lo sto chiudendo piano piano e lui va piano piano, se io lo chiudo forte, quindi direi che ci siamo. Perfetto. Perfetto. Questo perché ovviamente ognuno suona il charleston in modo diverso, quindi deve la batteria settarsi in modo da suonare giusto in base al batterista che la sta suonando. personalizzare l'esecuzione. Yes. Allora, facciamo un po' di modifiche al set. Allora, prima cosa, io qui ho un crash che suona forte, bello, mi piace, un china che suona piano. Allora, l'aumento di volume di uno dei componenti si può fare in diversi modi, o tramite l'ausilio del mixer che trovate in questa pagina, che è un normalissimo mixer con i suoi fader, oppure si può fare aumentando il volume del singolo suono del drum kit. Perfetto. Ok. Quindi, il primo modo diciamo che è utile per un aumento, un abbassamento di volume veloce da palco. Mentre il secondo modo, diciamo, serve di più a personalizzare in tutto e per tutto il proprio drum kit. Ok. Cosa che potete fare su qualsiasi componente del set per quanto riguarda sì i volumi, ma anche una cordatura, qualsiasi modalità di effettistica, di triggeraggio. Damping anche. Cioè, se lo voglio più stoppato il suono lo posso fare. Ok. Sì, anche come attacco e sustain. Perfetto. Quindi c'è tutto proprio come sulla G9, effettivamente. Esattamente. Quindi, tiriamo su un pochettino questo che è l'ausiliario 2, in realtà. Suonamelo. Eccolo qua. Instrument volume. Ok. Stiamo parlando di un 18 pollici, un 20S China. Ora sta a meno 20.6 decibel. Vai su. Perfetto. Perfetto. Ottimo. Ottimo, ottimo. E allora, adesso quello che voglio fare è cambiare il suono del mio rullante. Ok. Suonando uno dei componenti il pad si seleziona. Ok. Andiamo su instrument. Ah, ecco. Quindi qui ho il volume. Sì. Poi ho tutta la questione. Accordatura, attacco, rilascio. Quello di cui parlavamo prima. Quindi ad esempio, se io lo voglio più bassoso, come piace a me, basta che… Esatto. Mazza. Questo è in semitoni. Così è quello normale. Esatto. Teniamolo giù di uno. E un semitono. Ok. Altrimenti il fine è in centesimi. Ok. Quindi non è più un semitono ma sei all'interno del semitono. Passi ok, ho capito. Sì, sì. Non sapevo come spiegarlo ma avete capito. Per il resto quindi poi abbiamo attacco e rilascio. Oppure posso anche scegliere di cambiare strumento proprio. Quello rullante. C'è la schermatina cliccabile su F2. Sound. E qui si apre tutta la lista di suoni anche divisa per componente. Ok. Ride, tom. Probabilmente mi dobbiamo dare due. Sì, esattamente. Ok. Cambiamo kit. Così voglio provare qualcosa di sempre più o meno normale. Poi qualcosa di un po' matto. E poi andare a inserirgli qualche effetto anche magari un po' particolare. Vediamo. Allora. Ah. Treghe? Bel che treghe. Come faccio a mettergli il cross stick? C'è il comando. Ah, perfetto. Bello. Magari reggae però. Bello. Poi io reggae... No. Però comunque molto bello. Invece se vado avanti, probabilmente se vado avanti 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 ho delle cose strane. No. Ok, questo è un suon tome. Questo devi metterci, devi capire prima bene quali sono i suoni, lo devi studiare. Questa è una cassa. È bello, molto carino, quindi ovviamente avete qualsiasi tipologia American Safari. Basta perché ci sto sei ore qui. Io quando provo questi suoni qua impazzisco, starei a suonare tutto il giorno. Facciamo notte. E quindi, allora, ovviamente avete suoni normali, quindi di batterie, tra l'altro, se avete visto il video precedente, altrimenti lo diciamo, la questione è delle batterie vere. Sì. Che sono tutti campionamenti di batterie reali. Sei promosso. Vero? Hai visto che bravo. Quindi da Grecia, DV, tutto quanto. Oppure, se volete divertirvi o se avete magari una band in cui a un certo punto vi scatta il pezzo dance reggaeton, potete fare un pezzo Safari così, l'American Safari, lo potete fare. C'è di tutto. Molti di questi kits sono campionamenti delle batterie di cui parlavamo un attimo fa. Altri sono ispirati a generi musicali o addirittura anche ad artisti. Ah, ok. Ad esempio, il Bill It's Jeans, ti lascio immaginare cosa possa essere ispirato. Tra l'altro, la cosa interessante è che è una delle poche batterie elettroniche in realtà, questa parlo di Geva in generale, che secondo me ci puoi fare jazz. Cioè, perché ho visto il bebop o ce n'è un forse uno prima. Il jazz. Il jazz. Eccolo qua. Ovviamente da impostare prima bene il kit in modo tale che suoni nel modo giusto con le altezze, i volumi giusti, eccetera. Però, secondo me, è molto fattibile. Sì, sì, sì. È molto fattibile. Anche con le spazzole si può utilizzare. Figo. Non sono spazzolista, ma mi piacerebbe provare. Non ne ho un paio qua. Ma mi piacerebbe molto provare con le spazzole, perché è strano, bello. Ultima cosa di cui vorrei parlare, anche se appunto l'abbiamo già parlato nell'altro video, ma voglio proprio sentirlo sulle mani, sono la questione effetti di prendere magari un kit e inserirgli qualche effetto. Prendiamo un kit, l'altra volta l'avevamo fatto sul primo. Come in bass? Ok. E' su questo. Qualcosa c'è già, perché nella cassa forse l'ambient c'è già un po'. Qualcosa sì. Sì, gli ambient e anche altri effetti sono già impostati di default sui 40 drum kit, così come sulle altre centraline, allo stesso identico modo. Volendo, li potete togliere. Togliere, modificare, salvare. Gli date il suono secco e lui poi ci lavora. Andiamo su FX. E qui abbiamo gli stessi quattro moduli del video precedente. Cosa vuoi cambiare? Quello che noi abbiamo cambiato nel video precedente, Room Rev. Ok, quindi anche qua scegli quale. No, di qua, così. Esatto. Large room, small, vediamo large. Subito proprio cattivi. Come piace a noi. Quindi on. Esattamente. Medium. Ok, se no c'è small. Diciamo small che altrimenti non siamo... Come si dice, non siamo credibili. No. Figata, bellissimo. Ma poi perfetti proprio. Cioè, realisticissimi. Figata, figata. Molto bello. Ultimissima cosa. Poi basta perché altrimenti vado avanti anni. Effetti strani. Di lei. Effetti strani. Potete inserire gli effetti su ogni pezzo. Quindi la cassa non ce l'ha. Cassa niente in maniera indipendente. Cassa niente. Con dei sand. Molto meglio di metterlo su tutto il kit. Perché altrimenti appena suoni qualcosa si incasina tutto. Quindi ottimo. Voglio fare un'ultima prova. Ultimissima. Poi basta, giuro. Ma voglio mettere il flanger su tutta la batteria. Che fa sempre prendere bene tutti. Anche me. Wah, wah. Vabbè, non c'è a stare. Perché sennò veramente andiamo avanti il flanger. Quindi, flanger. Sì. Attivato. Sì. FX, send. Ok. E vado a metterlo su tutta la batteria. Quindi. Esatto. Farò un casino pazzesco. Vabbè. Qui, però, io adesso ho. Gli effetti digitali sono l'ora volta assegnabili agli effetti room. Ok. Quindi. Ora stai riverberando il flanger. Bellissimo. Cioè, da una batteria normale puoi arrivare a farti i suoni che vuoi. E' un mix professionale all'interno della centralina. Sì, sì, sì. Più che altro, appunto, se avete bisogno di qualche suono che non c'è, o lo caricate. Sì. Perché si possono caricare i suoni. Anche personalizzati, sì. Oppure, alla fine, ve lo create. Quindi, è anche, come si dice, come si chiamano i campionatori? Tipo. Sì. Che ti crei proprio il suono completamente che vuoi. Molto bello, molto bello. Quindi, sicuramente la batteria ha passato l'esame? Beh. No, più che altro perché la questione è, la batteria, appunto, ha un costo che, comunque, è abbastanza alto, ma accessibile. Sì. Quindi, più che altro, il fatto è che, appunto, non mi piace parlare di prezzi, ma ha un prezzo, al prezzo di questa batteria, difficilmente riesce a tirare fuori dei suoni. È vero. Così. Sì. Poi, anche i piatti, molto sensibili, veramente un ottimo, un ottimo strumento. Quindi, complimenti a chi l'ha fatta. Eh? Non guardare me. No. Però, però, veramente interessante. Quindi, ovviamente, se avete qualsiasi tipologia di domanda, qui sotto in descrizione, oltre a lasciarvi i link, hai video di Stefano, che ha fatto i video sulla G9 e un bel po' di video sulla G9, ma tutto quello che c'è sulla G9, o tanta della roba che c'è lì, lo potete fare anche con questa centralina. Vi lascio sotto i link anche ai vadi manuali, eccetera, e al suo canale Instagram. E, ovviamente, se avete qualsiasi domanda, io provo a rispondere. Se non rispondo io, risponderà Stefano, che appunto ne sa molto più di me su questa batteria e su tutte queste batterie. Quindi, qualsiasi domanda abbiate, scrivetela pure qui sotto nei commenti. Direi che hai risposto a tutto. Quindi, io sono molto felice. Bene, mi fa piacere. Bene, grazie mille di essere venuto qua. Grazie ai nostri ascoltatori. Esatto, grazie a tutti voi. Grazie a Geva per averci mandato anche questa G3. Quindi, grazie mille. E noi ci vediamo alla prossima. Ciao!